Vi siete mai chiesti quanti soldi sprechiamo per comprare cose che già abbiamo? Di quanto siano potenti alcuni dei nostri dispositivi e semplicemente non li usiamo fino in fondo? Stavo per comprare una nuova webcam perché quella del mio pc fa schifo ed invece ho trovato una soluzione più ecologica e più economica cioè utilizzare lo smartphone come se fosse una webcam Prima di continuare ti chiederai di iscriverti al mio canale per non perdere le novità che ci saranno nei prossimi giorni Per prima cosa accertiamoci che smartphone e pc siano collegati allo stesso wifi Ovviamente è scontato che lo siano però giusto una controllatina Installiamo iRion sullo smartphone, è semplicissimo Basta cliccare su Play Store, scrivere iRion ed installarlo Pochi secondi, ci siamo Adesso installiamo iRion anche sul pc, è semplicissimo Basta andare sul sito iRion, scaricare la versione per il proprio sistema operativo Adesso è tutto pronto Vediamo ora la qualità del video Questa è la webcam del computer Quella che volevo sostanzialmente sostituire Invece questa è la fotocamera dello smartphone Come potete ben vedere la qualità è mostruosamente più alta Se il video vi è piaciuto mettetemi un bel like Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate E niente, ci vediamo alla prossima Ciao ragazzi